buongiorno a tutti oggi è il 21 maggio 2021 e sono le ore 9 attestiamo la presenza dei consiglieri e l'autorizzazione alla registrazione presidente evola vicepresidente mineo consigliere forello consigliere chinnici consigliere sala consigliera rini consigliere ferrandelli considerato che nessuno dei consiglieri è presente in prima convocazione si rinvia la seconda convocazione alle ore 10